In questo momento che dobbiamo entrare nella tua, nella contemplazione di Gesù Cristo, la tua parola, ti preghiamo di ungere Marco, di mandare su di lui il tuo spirito, di ungere le sue labbra, Padre, che tu possa parlare attraverso lui con la potenza dello Spirito Santo, in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore, che abbiamo pregato. Amen. Amen. Cambia il cuore mio, falo puro ancora, cambia il cuore mio, pa che doni amor. Come l'argilla, io in mano a te, fammi essere come vuoi, te lo chiedo io. Cambia il cuore mio, fa che vibri ancora, cambia il cuore mio, fammi vincitor. Cambia il cuore mio, non lasciarmi sol, senza l'amor tuo, pace non avrò. Cambia il cuore mio, cambiare il cuore mio, cambia il cuore mio, cambia a me ninguno. la purezza tua metti nel mio cuore tocca il cuore mio cambia mi signor la purezza tua metti nel mio cuore amin carissimi fratelli e sorelle penso si senta bene con l'aiuto di dio speriamo di aver risolto tutti i piccoli problemi tecnici tutte le piccole questioni tecniche per poter avere parte in questo santo sabato per quanto rimane di questo straordinario giorno messo da parte per il signore un tempo consacrato per lo studio della parola di dio affinché possiamo crescere approfondire temi importanti solenni come quello di cui stiamo per parlare proprio in questa occasione prima di iniziare vorrei lodare il signore per il canto che abbiamo fatto perché abbiamo tanto bisogno di cambiare il nostro cuore e questo sarà anche una parte della presentazione che andremo a studiare a vedere assieme ad approfondire proprio in questo pomeriggio prima di iniziare vorrei fare un'altra breve breve preghiera dopodiché entreremo proprio nel merito nel centro il nocciolo della questione per il pomeriggio di questo santo sabato preghiamo assieme signore nostro padre celeste abbiamo bisogno dello spirito santo per discernere le importanti questioni spirituali che dobbiamo comprendere che dobbiamo capire con la nostra mente signore vogliamo prepararci vogliamo essere pronti per il secondo avvento di cristo gesù sappiamo che questa preparazione non è semplice ma sappiamo che con cristo tutte le cose diventano facili ti ringraziamo per questo ti ringraziamo per la comunione dello spirito santo che starà accanto ad ognuno di noi in questi momenti ci aiuterà a comprendere le importanti nozioni bibliche gli importanti insegnamenti biblici che andremo a studiare approfondire proprio in questa occasione ti ringraziamo padre nel nome di cristo gesù amen amen carissimi fratelli e sorelle come sicuramente avrete visto dal player dal volantino che è stato pubblicato negli scorsi giorni riguardo alla presentazione di questo pomeriggio avremo visto che il titolo è i centoquarantaquattromila e il sigillo di dio e il sigillo del dio vivente questi saranno i due temi che andremo ad affrontare questa è la seconda presentazione questo è il secondo sabato in cui affrontiamo questo nuovo tema dei centoquarantaquattromila abbiamo visto nella prima presentazione introduttiva abbiamo visto che i centoquarantaquattromila figli delle dodici tribù di israele rappresentano quello che è il popolo di dio che spiritualmente viene chiamato israele che spiritualmente e non letteralmente ma che spiritualmente viene chiamato israele ovvero di tutto quel popolo che lotta con dio contro il peccato e ne esce vincitore questo è quello che abbiamo visto nella scorsa presentazione ottenendo la vittoria sul peccato e rimanendo irreprensibili e puro davanti e durante il tempo davanti a dio durante il tempo di grande tribolazione delle sette ultime piaghe quando gesù cristo non intercederà più per il suo popolo e per il mondo intero questo è il momento carissimi di introdurre questa seconda presentazione introduttiva sui centoquarantaquattromila e il sigillo di dio vorrei che prendeste che abbiate con voi il vostro solito quadernino la vostra penna e soprattutto quella che è la vostra bibbia personale perché si andremo a vedere nelle slide i versetti tuttavia abbiamo bisogno di fare un'esperienza personale abbiamo bisogno di ricordarci dove sono questi versetti anche nelle nostre bibbie e al momento del bisogno possiamo ricordarci dove si trovano e se non ci ricordiamo visivamente dove si trovano avremo i nostri appunti scritti con i versetti con i collegamenti e con le importanti nozioni che andremo a studiare ad approfondire in questo pomeriggio perciò il primo passaggio introduttivo che vogliamo andare a vedere si trova in apocalisse capitolo 7 questo sarà il nostro punto di partenza per la presentazione di oggi apocalisse capitolo 7 versetti da 1 a 3 il titolo di questa presentazione è i centoquarantaquattromila e il sigillo di dio il versetto 1 inizia dicendoci dopo queste cose vidi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti della terra perché non soffiasse vento sulla terra né sul mare né su alcun albero poi vidi un altro angelo che saliva dal sollevante il quale aveva il sigillo del dio vivente e proprio di questo parleremo in questo pomeriggio il sigillo del dio vivente e gridò a gran voce i quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare dicendo non danneggiate la terra né il mare né gli alberi fino quando finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro dio ora una domanda che ci vogliamo porre e che vi invito a scrivere sul vostro quadernino sul vostro foglio di carta una domanda che ci dobbiamo appuntare annotare che dobbiamo chiederci e farci è perché è così importante ricevere il sigillo di dio perché dobbiamo ricevere il sigillo di dio la risposta è perché da questo dal sigillo di dio dipenderà la nostra salvezza eterna oppure la nostra distruzione eterna in ezechiele ci viene riportato questo stesso evento del suggellamento che abbiamo visto proprio adesso in apocalisse 7 dal versetto 1 a 3 ci viene riportato anche nel libro di ezechiele nel libro di ezechiele e vorrei tanto che andassimo a vedere assieme che cosa ci viene detto riguardo al suggellamento al sigillamento del popolo di dio che ha proprio a che fare con questi ultimi giorni con apocalisse capitolo 7 i versetti che abbiamo precedentemente letto in ezechiele capitolo 9 questo è un capitolo davvero molto importante insieme al capitolo 8 ma leggeremo assieme ezechiele capitolo 9 dal versetto 4 al versetto 6 e ci dice l'eterno disse passa in mezzo alla città in mezzo a gerusalemme e fa un segno ci ricordiamo apocalisse 7 fino quando non dovevano soffiare i quattro venti per distruggere la terra gli alberi finché il popolo non fosse stato segnato sulla fronte sigillato sulla fronte ci dice il versetto 4 fa un segno sulla fronte degli uomini che sospirono sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono nel suo mezzo e agli altri disse in modo che io sentissi passate per la città dietro di lui e colpite il vostro occhio non abbia compassione e non usate alcuna pietà uccidete fino allo sterminio vecchi giovani vergini bambini e donne ma non avvicinatevi ad alcuno su cui ci sia il segno o il sigillo e da dove dovete incominciare incominciate dal mio santuario incominciate da quella che è la mia chiesa da coloro che professano di essere il mio popolo iniziate proprio da loro e vedete se sulla loro fronte spiritualmente parlando vi è questo sigillo e capiremo che cos'è questo sigillo ora chi ha il segno o il sigillo di dio in questi ultimi giorni durante il tempo della grande tribolazione delle ultime sette piaghe che distruggeranno letteralmente la terra chi avrà il segno o il sigillo di dio non verrà distrutto da queste sette piaghe ma sarà protetto perché perché è stato sigillato per la sua salvezza ora sorge un'altra domanda e vorrei che ci annotassimo ricordiamoci stiamo non predicando ma insegnando e questo è uno studio biblico è letteralmente uno studio biblico perciò annotiamoci la seguente domanda la seconda domanda con che cosa con che cosa il popolo di dio sarà sigillato in questi ultimi giorni con che cosa il popolo di dio sarà sigillato in questi ultimi giorni ebbene la parola di dio è molto chiara riguardo e in efesini possiamo annotarci efesini capitolo 1 dal versetto 13 al versetto 14 ci viene detto in lui anche voi in gesù anche voi dopo aver udito la parola della verità ovvero l'evangelo della vostra salvezza e dopo aver creduto siete stati sigillati con lo spirito santo della promessa siete stati sigillati con lo spirito santo della promessa ora una cosa molto importante è questa il sigillo di dio non è qualcosa di visibile voglio che lo comprendiamo e possiamo annotarcelo il sigillo di dio il segno di dio che lui vuole mettere sulle nostre fronti non è qualcosa di visibile non è un segno letterale non è una scritta non è un tatuaggio sulla propria fonte fronte che adesso possiamo vederci gli uni gli altri vedere qualche cosa sulla nostra fronte assolutamente no questo è il pensiero di alcuni alcuni credono così ma vedremo che non è affatto così così come anche il marchio della bestia non è un chip non è un micro chip non è un vaccino e non è un tatuaggio letteralmente parlando sulla propria mano destra e sulla propria fronte ma entrambe sia il sigillo di dio che il marchio della bestia sono di fatto un'esperienza spirituale il sigillo di dio indica obbedienza nei confronti di dio il marchio della bestia indica obbedienza nei confronti della bestia e nei confronti di satana sigillo di dio e marchio della bestia che vedremo più nello specifico vedremo più nello specifico in che cosa consistono entrambi ma voglio che ci concentriamo proprio su questo versetto efesini 1 versetto 13 in modo particolare vogliamo concentrarci su quello che è il sigillo di dio che spiritualmente viene applicato sulla fronte sulla fronte voglio chiedervi che cosa abbiamo qui sulla fronte che cosa abbiamo qui sulla nostra fronte abbiamo quello che è il lobo frontale abbiamo il lobo frontale abbiamo quella che è la nostra mente attraverso la quale noi prendiamo delle decisioni delle decisioni ora per essere sigillati con lo spirito santo che cosa deve avvenire prima di essere sigillati con lo spirito santo ritorniamo al nostro versetto perché davvero molto importante cosa ci dice il versetto 13 che abbiamo letto prima dobbiamo udire la parola di verità prima dobbiamo sentire ascoltare quello che il vangelo di gesù per la nostra salvezza e credere questo è ciò che dobbiamo fare prima solo allora dopo aver udito la parola di verità del vangelo di cristo per la nostra salvezza solo allora potremo essere sigillati ma prima di essere sigillati con quello che è lo spirito santo noi siamo chiamati dobbiamo capire dobbiamo comprendere quello che è il piano della salvezza e dobbiamo capirlo con la nostra mente dobbiamo metabolizzarlo con la nostra mente dobbiamo capire una cosa sapete in alcune denominazioni cristiane ci viene detto basta credere non devi fare tante domande non devi capire molto basta credere alcuni potrebbero dire ma la nostra fede il nostro credo proviene dall'udire e il nostro udire proviene dalle sante scritture che sono la nostra guida passo per passo nella nostra vita pratica e ogni cosa deve essere spiegata ogni cosa deve essere compresa per mezzo delle scritture il piano della salvezza deve essere compreso da noi dalla nostra mente deve essere scelto da noi personalmente sapete dio non obbliga dio non forza nessuno ad essere salvato dio non forza nessuno a ricevere il sigillo di dio sebbene questo sia il desiderio di dio che tutti siano salvati e che nessuno perisca ma dio non obbliga nessuno ad essere salvato ecco perché per noi è importante capire ciò in cui noi crediamo capire con la nostra mente ciò in cui noi crediamo e una volta che abbiamo capito il desiderio di dio di salvarci tutti quanti il desiderio di dio di dare suo figlio come sacrificio per il perdono dei nostri peccati e per la nostra salvezza quando noi comprendiamo il sacrificio di gesù per noi allora siamo chiamati a prendere una scelta consapevole e libera e personale per mezzo di quella che è la nostra mente quando noi avremo compreso udito la parola della verità quando noi avremo capito quello che è l'evangelo della salvezza di cristo gesù e avremo creduto allora saremo sigillati con lo spirito santo della promessa ora la domanda seguente è questa che cosa farà lo spirito santo una volta che noi comprendiamo la verità comprendiamo il vangelo di salvezza il vangelo di cristo per la nostra salvezza e permettiamo allo spirito santo di operare nella nostra vita che cosa farà lo spirito santo in noi in che modo opererà lo spirito santo sigillandoci come vorrei che andassimo in ebrei capitolo 10 e leggessimo assieme dal versetto 14 ebrei capitolo 10 dal versetto 14 con un'unica offerta infatti egli gesù ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati potente questo versetto gesù ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati e io davvero spero che il desiderio di ognuno di noi è che possiamo santificarci ed essere perfetti in cristo gesù versetto 15 e ce ne rende testimonianza anche lo spirito santo che cosa dice lo spirito santo infatti dopo aver detto versetto 16 questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni dice il signore io metterò le mie leggi dove nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti aggiunge e non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità carissimi voglio che rimaniamo con questo versetto voglio che lo leggiamo attentamente soprattutto il versetto 15 e il versetto 16 quando lo spirito santo opera nella nostra vita ha un solo grande obiettivo ha il grande obiettivo di renderci perfetti scrivendo nella nostra mente nel nostro cuore la sua santa e immutabile legge dei dieci comandamenti morali di dio un carattere morale un carattere giusto un carattere che sia secondo lo standard morale di dio per mezzo del quale io e te potremo essere sigillati solo se la nostra ubbidienza ha questa legge che dio stesso per mezzo dello spirito santo metterà nel nostro cuore nella nostra mente allora la nostra ubbidienza sarà perfetta e saremo sigillati infatti isaia se ci possiamo annotare questo straordinario passaggio isaia capitolo 8 versetto 16 ci dice chiudi questa testimonianza sigilla questa legge fra i miei discepoli questo è il desiderio di dio sigillare la legge questa legge dei dieci comandamenti fra i miei discepoli dice dio fra me e te dio desidera sigillarci sigillare la sua legge in noi nella nostra mente e nel nostro cuore e questa perfetta ubbidienza alla legge di dio attraverso la quale saremo sigillati non avverrà solo attraverso quelle che sono le nostre forze perché sapete noi come uomini siamo davvero deboli e siamo davvero mancanti perché abbiamo carnalmente dei desideri dei piaceri delle passioni che sono contrarie alla legge la legge ci dice di non fare una cosa e noi carnalmente la vogliamo fare la desideriamo noi con le nostre sole forze non possiamo ma quando scegliamo cristo con la nostra mente e lo scegliamo con la nostra mente e quando lo spirito santo opera in noi allora proveremo un grande piacere e proveremo una grande gioia nel fare la volontà di dio e nel mettere in pratica i suoi comandamenti i suoi comandamenti in romani romani questo è un passaggio che non ho nelle slide ma vorrei invitarvi ad annotarvelo ed aprire le vostre bibbie in romani capitolo 7 romani capitolo 7 leggeremo assieme il versetto 18 e il versetto 19 romani 7 dal versetto 18 ci viene detto difatti io so che in me cioè nella mia carne non abita alcun bene poiché in me si trova il volere ma il modo di compiere il bene no infatti il bene che voglio non lo faccio ma il male che non voglio quello faccio carnalmente per noi rispettare la legge di dio è impossibile qual è la nostra unica soluzione desiderarlo nella nostra mente nel nostro cuore e affidarci completamente a cristo infatti il versetto 24 ci dice me infelice chi mi libererà da questo corpo di morte versetto 25 grazie siano rese a dio per mezzo di gesù cristo nostro signore solo cristo è in grado di aiutarci e di rendere la nostra ubbidienza un'ubbedienza perfetta solo in questo modo troveremo un estremo piacere nell'osservare la legge di dio e a non commettere più i piaceri desideri che avevamo grazie siano rese a dio per mezzo di gesù cristo nostro signore così dunque io con la mente osservo la legge di dio ma con la carne la legge del peccato ecco perché dobbiamo affidarci esclusivamente completamente a cristo e allora questo diventerà gioia per noi fare la volontà di dio fare la legge mettere in pratica osservare la legge morale di dio per noi diventerà il più grande piacere salmo salmo 40 anche questo versetto non è incluso tra le slide ma voglio condividerlo con voi il salmo 40 al versetto 8 ci dice qualche cosa di davvero molto importante questa dovrebbe essere la nostra esperienza spirituale quotidiana con cristo gesù salmo 40 versetto 8 dio mio desidero fare la tua volontà la tua legge è dentro il mio cuore la tua legge dentro il mio cuore è dentro alla mia mente questa deve essere l'esperienza nostra attualmente questa sarà l'esperienza dei cento quaranta quattromila che saranno sigillati vorrei che andassimo di nuovo in apocalisse capitolo 7 e vorrei che questa volta ci concentrassimo ad un altro aspetto di questa importantissima vicenda di questo tema in apocalisse 7 al versetto 2 ci viene presentato il sigillo del dio vivente e al versetto 3 ci viene detto finché parole in blu non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro dio potrete vedere queste due parole in rosso al versetto 2 al versetto 3 sigillo e segnato e vorrei che ci concentrassimo su queste due parole che in modo semplificato possiamo prendere come sigillo e segno sigillo e segno segnato perché perché queste due parole sigillo e segno sono in realtà un sinonimo biblicamente parlando andiamo a vedere un secondo testimone che dimostra il fatto che le parole segno e sigillo sono un sinonimo che rappresentano di fatto la stessa cosa segno e sigillo in romani capitolo 4 al versetto 11 ci viene detto poi ricevete il segno sottolineamolo il segno della circoncisione come che cosa come sigillo della giustizia della fede ancora una volta vediamo qui carissimi e deve essere ben chiaro nella nostra mente che il termine sigillo e il termine segno nella bibbia rappresentano una stessa identica cosa sono un sinonimo due parole diverse per dire la stessa cosa segno e sigillo e abbiamo visto poco fa che il sigillo di dio si ottiene solo quando lo spirito santo di dio opera in noi scrivendo nella nostra mente e nel nostro cuore quella che la sua legge affinché la mettiamo in pratica e la nostra obbedienza sia perfetta nei confronti di dio ora andiamo a vedere che cosa ci dice deuteronomio deuteronomio sul segno o sigillo di dio confermando tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento in deuteronomio capitolo 6 dal versetto 6 al versetto 8 iniziando però dal versetto 1 ci viene detto versetto 1 or questo è il comandamento gli statuti e i decreti che l'eterno il vostro dio ha ordinato di insegnarvi perché li mettiate in pratica e se leggerete il contesto di deuteronomio capitolo 5 deuteronomio capitolo 6 noterete che il contesto questi comandamenti questi statuti questi decreti che dovevano essere messi in pratica erano proprio i dieci comandamenti della legge morale ora versetto 8 che cosa doveva fare il popolo di israele le legherai come un segno alla mano saranno come fasce tra gli occhi dove dovevano essere legati questi comandamenti dovevano essere legati alla mano alla mano destra e in mezzo agli occhi cosa c'è in mezzo agli occhi la fronte o carissimi questa non doveva essere solo una semplice forma esteriore e formale come ancora molti ebrei oggi fanno che si legano letteralmente dei degli scritti delle scatoline delle pergamene messe in delle scatoline e se le legano con dei nastri alla mano se le legano con dei nastri alla fronte e ai capelli non questa deve essere l'esperienza che dobbiamo fare letteralmente legarcele alle mani e agli occhi perché non ci aiuteranno a niente ma questa deve essere un'esperienza spirituale autentica e pratica nella nostra vita quotidiana nella quale la legge di dio venga messa in pratica nelle nostre azioni di tutti i giorni e venga meditata nella nostra mente nei nostri pensieri giorno e notte questo sarà l'unico segno o sigillo di dio che contraddistinguerà il popolo di dio in questi ultimi giorni dal resto delle denominazioni dal resto del mondo in questi ultimi giorni apocalisse capitolo 7 dal versetto 1 al versetto 3 voglio che ci concentriamo un po' di più e specificatamente al versetto 2 e vorrei che se avete la possibilità vorrei tanto che vi annotaste questo termine o questa serie di parole che troviamo al versetto 2 il sigillo del dio vivente il sigillo del dio vivente e vorrei tanto che andassimo a vedere che cosa di fatto rappresenta questo sigillo del dio vivente che cosa significa questa espressione il sigillo del dio vivente abbiamo già visto che la parola sigillo può anche significare segno e semplicemente lo possiamo dimostrare vedendo il versetto 3 oltre agli altre differenze bibliche che abbiamo avuto in precedenza e che spero vi siate annotati la parola sigillo può anche significare segno e abbiamo visto che ciò coincide corrisponde comunque a una perfetta obbedienza alla legge di dio per mezzo dello spirito santo questo è quello che abbiamo visto fino adesso riguardo al sigillo di dio ma che cosa significa l'espressione del dio vivente che cosa significa questa espressione del dio vivente questo è un titolo che dio ha ma per indicare che cosa perché è così importante che il sigillo il segno sia del dio vivente questo titolo che cosa vuole dirci vorrei tanto che ci assegnassimo che ci segnassimo queste due riferenze bibliche geremia capitolo 10 dal versetto 10 al versetto 12 e atti capitolo 14 versetto 15 spero che ce le stiamo annotando geremia 10 dal versetto 10 ci dice ma l'eterno è il vero dio egli è il dio vivente e il re eterno vediamo questo titolo che abbiamo visto prima in apocalisse 7 al versetto 2 il sigillo del dio vivente che cosa significa questa espressione il dio vivente ora lo spiega il versetto 11 al versetto 12 così direte loro gli dèi che non hanno fatto i cieli e la terra scompariranno dalla terra e di sotto il cielo egli ha fatto la terra con la sua potenza ha stabilito il mondo con la sua sapienza e con la sua intelligenza ha disteso i cieli chi è il dio vivente è il dio creatore il dio vivente è colui che ha creato i cieli la terra il mare e le fonti delle acque infatti in atti capitolo 14 al versetto 15 ci viene detto al dio vivente chi è questo dio vivente che ha fatto il cielo la terra il mare e tutte le cose che sono in essi il dio vivente è il dio creatore il sigillo del dio vivente è il segno del dio creatore sigillo del dio vivente uguale segno del dio creatore dio infatti vuole che lo riconosciamo come dio creatore e per questo motivo lui ha lasciato un segno lui ha lasciato un memoriale per ricordarci del fatto che lui è il dio creatore ascoltate il salmo 111 al versetto 4 ci dice egli dio fa sì che le sue meraviglie fa sì che le sue opere meravigliose fa sì che la sua creazione sia ricordata egli fa sì che le sue meraviglie siano ricordate e voglio chiedervi in che modo fa sì dio che le sue meraviglie siano ricordate in che modo attraverso un segno attraverso un segno che dio stesso ha lasciato proprio nel mezzo della sua santa legge come un sigillo e questo segno questo memoriale questo sigillo del dio vivente questo segno del dio creatore lo si trova proprio nel quarto comandamento in esodo capitolo 20 infatti dal versetto 8 al versetto 11 ci viene presentato il quarto comandamento che ci dice ricordati del giorno di sabato per santificarlo ricordati come un memoriale come un segno affinché fosse ricordato per ricordare che cosa lavorerai sei giorni in essi farai ogni tuo lavoro ma il settimo giorno è sabato sacro all'eterno il tuo dio non farai in esso alcun lavoro né tu né tuo figlio né tua figlia né il tuo servo né la tua serva né il tuo bestiame né il forestiero che dentro alle tue porte versetto 11 perché dobbiamo ricordarci del sabato di questo segno perché poiché in sei giorni l'eterno fece i cieli e la terra il mare tutto ciò che in essi e il settimo giorno si riposò perciò l'eterno ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato e proprio il sabato questo quarto comandamento della legge di dio è stato reso da dio stesso un segno di demarcazione tra il vero e il suo popolo di dio e tutto il resto degli abitanti della terra in ezechiele ezechiete capitolo 20 leggeremo assieme dal versetto 11 ezechiele 20 dal versetto 11 ci viene detto diedi loro i miei statuti e feci loro conoscere i miei decreti osservando i quali l'uomo vivrà per essi versetto 12 inoltre diedi loro i miei sabati affinché fossero un segno ci ricordiamo che cosa significa la parola segno qual è un sinonimo della parola segno l'abbiamo studiato prima è sigillo è sigillo segno sigillo sigillo segno diedi loro i miei sabati affinché fossero un sigillo fra me fra dio e loro e noi tra dio e noi un segno un sigillo i suoi sabati perché conoscessero che io sono l'eterno che li santifico io sono l'eterno il vostro dio camminate secondo i miei statuti osservate i miei reti e metteteli in pratica versetto 20 santificati i miei sabati e siano un segno un sigillo fra me e voi affinché conosciate che io sono l'eterno il vostro dio il dio che vi santifica il sabato del quarto comandamento il settimo giorno della settimana il memoriale della creazione è il segno è il sigillo di dio per mezzo del quale dio vuole mostrare al mondo intero e a tutto l'universo che io e te gli apparteniamo e che siamo un popolo santo santificato da dio stesso a differenza del marchio della bestia che non è un marchio reale letterale un microchip un tatuaggio o un vaccino ma è una falsa adorazione che si oppone alla vera adorazione il marchio della bestia è un falso sabato è una falsa adorazione un'adorazione domenicale un'adorazione pagana che rende omaggio alla bestia papale e a satana stesso perché è un segno un marchio di ribellione nei confronti di dio di ribellione nei confronti della legge di dio e del suo santo sabato che lo spirito santo vuole scrivere nei nostri cuori e nelle nostre menti per quanto riguarda lo studio sul marchio della bestia vorrei tanto invitarvi a trovare una presentazione in modo particolare sul nostro canale intitolato che cos'è il marchio della bestia che cos'è il marchio della bestia ma noi vogliamo focalizzarci in questa presentazione su quello che è il sigillo di dio e nel messaggio dei tre angeli in modo particolare che troviamo in apocalisse capitolo 14 possiamo vedere tutto quello di cui abbiamo parlato fino a questo momento in modo davvero molto chiaro e molto semplice se avete le vostre bibbie con voi vorrei invitarvi in apocalisse capitolo 14 dal versetto 6 al versetto 7 ci viene detto vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo recando il vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra a ogni nazione tribù lingua e popolo e gli diceva a gran voce temete dio e dategli gloria perché perché giunta l'ora del suo giudizio e adorate colui che ha fatto il cielo la terra il mare e le fonti delle acque questo è il dio creatore è il dio vivente e l'adorazione sabbatica è il segno è il sigillo di questo nostro dio il versetto 9 il messaggio del terzo angelo infatti mostra un grande avvertimento un grande ammonimento contro chiunque adora la bestia la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte e sulla mano e il messaggio del terzo angelo conclude dicendo quale sarà questo popolo che non riceverà il marchio di dio ma che riceverà il sigillo del dio vivente il versetto 12 ci dice qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di dio e la fede di gesù i 144.000 non riceveranno il marchio della bestia ma riceveranno il sigillo del dio vivente perché perché osservano i comandamenti di dio e la fede di gesù e hanno la fede di gesù una perfetta ubbidienza ai comandamenti di dio andiamo avanti in apocalisse capitolo 7 e vogliamo vedere al versetto 3 che i 144.000 hanno questo segno questo sigillo spirituale dove sulla fronte sulla fronte hanno il sigillo del dio vivente spiritualmente parlando chi altro ci dice la bibbia sui 144.000 e il sigillo di dio posto sulla fronte andiamo avanti in apocalisse 14 al versetto 1 apocalisse 14 al versetto 1 ci dice poi vidi l'agnello che stava in piedi sul monte di sion e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome il nome dell'agnello e il nome di suo padre scritto dove scritto sulle loro fronti abbiamo visto fino ad ora che che il sigillo di dio sarà la libera osservanza volontaria dei comandamenti di dio e del suo sabato e sapete una cosa molto interessante che proprio la parola sabato proprio all'interno della parola sabato vi è presente proprio il nome del padre quando ad esempio andiamo a vedere la parola sabato che in originale è shabbat proprio al centro di questa parola troviamo un'altra parola che è abba proprio al centro della parola sabato troviamo la parola abba che significa padre che significa padre i 144.000 hanno il nome di dio padre scritto dove sulla loro fronte in galati 4 al versetto 6 infatti ci dice ora perché voi siete figli dio ha mandato lo spirito lo spirito del figlio del figlio sui nostri del figlio suo nei vostri cuori e che cosa fa lo spirito santo nei nostri cuori e nelle nostre menti grida e che cosa grida grida abba che significa padre perciò carissimi è proprio lo spirito santo che ci farà desiderare di osservare il comandamento del riposo e dell'adorazione sabbatica perché in essa vi è il sigillo di dio vi è il nome del padre nel quarto comandamento ritroviamo effettivamente tutti quelli che sono gli aspetti fondamentali di un sigillo il nome di dio come padre ovvero abba padre troviamo il titolo di dio come dio vivente ovvero come dio creatore e troviamo anche quella che è la giurisdizione del suo regno della sua autorità che si estende su tutto alla terra su nel cielo e qui sulla terra perché perché è stato lui a creare tutte le cose che stanno su nel cielo qui sulla terra e sotto la terra ora per quanto riguarda il comandamento in sé del sabato il quarto comandamento l'osservanza del quarto comandamento letteralmente parlando è solo una parte del sigillo di dio perché perché essa letteralmente mostra una visibile distinzione tra chi ubbidisce a dio e tra chi ubbidisce a satana perché obbediscono a dio che dice di osservare il sabato e non ubbidiscono a satana che invece dice di osservare la domenica ma ricordiamoci che il sabato del quarto comandamento non si ferma a una sola osservanza formale del sabato non si ferma solo a questo il quarto comandamento carissimi non si ferma soltanto al settimo giorno della settimana ma ricordiamoci che il sabato l'abbiamo visto in ezechiele capitolo 20 al versetto 12 al versetto 20 è un segno del fatto che dio vuole santificarci e la bibbia ci insegna in giacomo 2 al versetto 10 che chiunque in sfatti osserva tutta la legge ma viene meno in un sol punto è colpevole su tutti i punti e voglio che sappiate una cosa noi avventisti del settimo giorno non siamo e non dobbiamo essere cristiani e santi solo una volta a settimana solo durante il sabato no il comandamento stesso ci invita a ricevere le speciali benedizioni del sabato affinché possiamo comportarci in modo giusto moderato e santo tutti anche tutti gli altri giorni della settimana dimostrando che la nostra vita pratica di tutti i giorni che in tutti gli aspetti pratici della nostra vita di tutti i giorni dio è colui che ci santifica dio invita il suo popolo ad adunarsi tutti insieme e a ricevere la speciale benedizione del sabato di sabato così come stiamo facendo noi in questo momento ma allo stesso tempo ci invita a fare un passo in là e ci dice ci invita a vivere tutti i giorni che restano della settimana perciò dal tramonto del sole di questa sera fino a ritornare al prossimo sabato dio ci invita a vivere ogni giorno come se fosse un sabato avendo nella nostra mente concentrata su dio in comunione con cristo vedremo grandi cambiamenti nel nostro carattere grandi cambiamenti nel nostro carattere se noi vivessimo ogni giorno della settimana come se fosse un sabato ricordandoci però che dio ha benedetto e ha santificato solo questo giorno solo il sabato il settimo giorno della settimana per una speciale benedizione infatti vorrei che andassimo a vedere questo questa seguente immagine la parola sabato o shabbat significa di fatto riposo del padre riposo del padre voglio che sappiate quando noi vivremo il sabato quando noi vivremo il settimo giorno della settimana indicato nel quarto comandamento se noi lo vivremo come una vera esperienza di comunione con cristo questo porterà la nostra santificazione e impareremo ad astenerci dal peccato non solo il sabato ma tutti i giorni della settimana o carissimi noi dobbiamo imparare a riposarci in cristo e tutto parte da qui tutto parte da oggi tutto parte da adesso da questo santo sabato nel quale ci troviamo proprio ora perché perché il sabato è un segno il sabato è un sigillo del fatto che dio vuole santificare me e te non vuole soltanto che siamo dei degli avventisti del settimo giorno formali che quando tramonta il sole smettiamo di cucinare smettiamo di lavorare il sabato mattina facciamo la nostra passeggiata per arrivare in chiesa torniamo a casa e riposiamo e dormiamo non è questo tutto il sabato di cui dio vorrebbe che noi avessimo parte non è un sabato formale che noi dobbiamo rispettare carissimi molti avventisti del settimo giorno molti tra coloro che osservano il sabato formalmente non riceveranno il sigillo di dio questo deve essere chiaro non un'osservanza formale ci porterà a ricevere il sigillo di dio ma dobbiamo avere un'esperienza vera e propria un'esperienza sabbatica spirituale in questo santo e prezioso giorno in apocalisse capitolo 14 al versetto 1 ci viene detto che i 144.000 hanno il nome dell'agnello e del padre abba sulla fronte ovvero il sabato del quarto comandamento come abbiamo visto finora in tutto lo studio biblico che abbiamo avuto insieme non è soltanto una osservanza formale e legalista del comandamento costori infatti non saranno sigillati ma l'osservanza del sabato deve essere una vera e propria esperienza che porta alla nostra santificazione alla nostra santificazione caratteriale tutti i giorni della settimana ora vogliamo vedere in che cosa consiste concretamente il nome dell'agnello ovvero gesù e il nome di dio ovvero del padre sapete oggi esiste una moda per così chiamarla una moda soprattutto tra quelli che sono definiti chiamati essere ebraici messianici ebrei messianici e anche tra i testimoni di geova e altre denominazioni di questo tipo secondo le quali dobbiamo chiamare gesù e il padre secondo il loro nome originale se no non possiamo essere sigillati ora per quanto riguarda gesù anche chiamato yesù e dio il padre anche chiamato ed ovviamente questo è il suo nome yahweh o in altre diciamo traduzioni altri appellativi geova dai quali poi i testimoni chiamano geova eccetera la lista comunque potrebbe continuare riguardo ai nomi originali e prima di continuare è bene fare una piccola precisazione attenzione è bene ed è buona cosa sapere quali siano i nomi originali quali siano i nomi originalmente parlando per quanto riguarda gesù e per quanto riguarda dio il padre è molto importante saperlo perché gesù o yeshua significa di fatto dio salva questa è la traduzione del nome yeshua yeshua significa dio salva o yahweh salva mentre yahweh il nome di dio significa il signore il sovrano l'onnipotente colui che ha la vita in sé questo è il significato della parola ecco perché nella bibbia nelle bibbia che abbiamo è stato messo il termine originale ebraico perché perché nessuno o pochi nessuno lo capirebbe se non chi ha studiato l'ebraico ed è stato ed è stato sostituito proprio con quello che il significato in sé della parola affinché si potesse capire che dio yahweh è il vero dio è il signore l'onnipotente che lui è colui che gli è ma quando andiamo a vedere nella bibbia l'importanza del nome non possiamo limitarci a un nome letterale non possiamo limitarci a un composto a un nome composto a un insieme di lettere e basta come se fosse quella formula di lettere che ci salverà da che cosa da qualcosa come se fosse quell'insieme di lettera che se lo sappiamo allora riceveremo il sigillo o no carissimi perché la bibbia più e più volte menziona il fatto che il nome di qualcuno ne mostra il carattere il nome che deve essere posto sulle fronti dei 144.000 è il nome dell'agnello di gesù cristo e di dio padre è il loro carattere che deve essere riprodotto nelle loro vite andiamo a dare una dimostrazione del fatto che il nome nella bibbia rappresenta il carattere nome uguale carattere e lo possiamo scrivere nei nostri appunti nome uguale carattere andiamo al primo esempio genesi capitolo 27 inizieremo a leggere dal versetto 34 in poi alludire le parole di suo padre esaù diede un grido forte ed amarissimo poi disse a suo padre benedici anche a me padre mio ma esacco rispose tuo fratello giacobbe è venuto con inganno e si è preso la tua benedizione esaù disse non è a ragione chiamato giacobbe egli mi ha soppiantato già due volte sapete il nome giacobbe significa ingannatore il nome giacobbe significa ingannatore e adesso il nome di giacobbe rivelava quello che era il suo vero carattere era un carattere ingannatore non è a ragione chiamato giacobbe lui è proprio un ingannatore il suo nome rivelava quello che di fatto era il suo carattere andiamo a vedere un secondo esempio ci troviamo in prima samuele capitolo 25 al versetto 25 e ci viene detto ti prego signor mio non fare caso a quell'uomo spregevole a nabal perché non dovrei fare caso a quell'uomo spregevole a nabal perché perché egli è esattamente come il suo nome si chiama nabal e che cosa significa la parola nabal che in lui non c'è che in lui scusatemi che in lui c'è stoltezza nabal significa stolto nabal significa spregevole nabal significa malvagio egli è esattamente come il suo nome il nome nella bibbia rappresenta il carattere e lo stesso carissimi vale per quanto riguarda il nome dell'agnello il nome di gesù lo stesso vale per quanto riguarda il nome di dio che mostra il suo vero carattere mostra la sua bontà la sua misericordia ma allo stesso tempo la sua giustizia ed equità esodo questo è il nostro terzo esempio esodo capitolo 34 il versetto 5 da 5 a 7 ci viene detto allora l'eterno disse nella nuvola e si fermò la vicino a lui a mosè e proclamò il nome dell'eterno e ora ci aspettiamo che dio pronunci il suo nome ci aspettiamo che dio pronunci il suo nome personale ma ascoltate a che cosa fa riferimento dio stesso pronunciando il suo nome l'eterno passò davanti a mosè e gridò l'eterno l'eterno dio misericordioso e pietoso lento all'ira ricco in benità e fedeltà che usa misericordia migliaia che perdona l'iniquità la trasgressione il peccato ma non lascia il colpevole impunito e che visita l'iniquità dei padri sui figli e sui figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione carissimi noi sappiamo e comprendiamo che in dio non c'è peccato così come non c'è stato peccato in cristo gesù l'agnello di dio senza difetto il carattere del padre e del figlio misericordioso e pietoso lento all'ira ricco in benità e fedeltà è lo stesso carattere che deve essere riprodotto in noi è quel carattere che deve essere impresso nella nostra fronte che deve essere impresso proprio nella nostra mente nel nostro lobo frontale che è la sede della nostra volontà è la sede del nostro carattere perché attraverso la nostra mente che prendiamo le decisioni le decisioni portano alle azioni le azioni alle abitudini le abitudini al nostro carattere che deciderà o la vita eterna oppure la morte seconda ecco perché dobbiamo prestare molta attenzione ai nostri pensieri dobbiamo prestare molta attenzione alla nostra fronte alla nostra mente e voglio che sappiate una cosa che la legge di dio non è soltanto una legge letterale non è soltanto una legge letteralmente scritta nella pietra e basta no la legge dei dieci comandamenti è anche una legge spirituale vi ricordate quando gesù ad un certo punto in matteo capitolo 5 al versetto 27 al versetto 28 dice voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore ha già commesso adulterio nel suo cuore ovvero nella sua mente attraverso i pensieri i pensieri con l'aiuto di gesù per mezzo dello spirito santo con il quale 144 mila saranno sigillati io e te dobbiamo imparare a sottomettere e a controllare ogni pensiero all'ubbidienza di cristo seconda corinzi capitolo 10 versetto 4 e 5 noi siamo nel bel mezzo del gran conflitto seconda corinzi capitolo 10 dal versetto 4 ci viene detto le armi della nostra guerra non sono carnali siamo nel gran conflitto ma non dobbiamo combattere carnalmente ma come sono le nostre armi ma potenti in dio a distruggere le fortezze affinché distruggiamo le argomentazioni ed ogni altezza che si leva contro la conoscenza di dio e rendiamo molta attenzione al versetto 5 e rendiamo sottomesso ogni pensiero all'ubbidienza di cristo noi dobbiamo rendere sottomesso ogni pensiero a cristo allora prima corinzi capitolo 2 versetto 16 ci dice che noi avremo la mente di cristo quando quando sottometteremo tutti i nostri pensieri malvagie carnali quando noi li sottometteremo a cristo diremo signore prendili tutti prego prendili tu dammi la tua mente che cosa farà cristo cristo ci darà la sua mente scriverà nelle nostre menti e nei nostri cuori la sua santa legge la bibbia insiste e paolo ci dice in filippesi capitolo 2 al versetto 5 abbiate in voi lo stesso sentimento o in lingua originale abbiate in voi lo stesso pensiero che già è stato in cristo gesù come potremmo avere questo stesso pensiero filippesi 4 paolo continua dicendo al versetto 7 8 e la pace di dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in cristo gesù dio vuole custodire i nostri pensieri dio vuole custodire le nostre menti le nostre fronti perché perché vuole imporci vuole porci quello che è il suo sigillo di appartenenza il versetto 8 ci dice quanto al rimanente fratelli tutte le cose che sono veraci tutte le cose che sono oneste tutte le cose che sono giuste tutte le cose che sono pure tutte le cose che sono amabili tutte le cose che sono di buona fama se vi è qualche virtù e se vi è qualche lode pensate a quelle pensate a quelle carissimi noi dobbiamo presentare prestare noi dobbiamo prestare una grandissima attenzione ai nostri pensieri dobbiamo prestare una grandissima attenzione a quelle che sono le nostre menti perché secondo a corinzi capitolo 3 il versetto 18 ci dice ci dà questo principio secondo il quale contemplando guardando ascoltando pensando noi siamo trasformati o in bene o in male dobbiamo avere una grande cura e una grande attenzione di quella che è la nostra mente il conflitto il gran conflitto la grande controversia è un gran conflitto mentale in primo luogo dobbiamo sottomettere ogni pensiero a cristo e la mente di cristo diventare la nostra mente il salmo 17 al versetto 3 ci dice tu hai scrutato il mio cuore o tu hai scrutato la mia mente l'hai visitato nella notte mi hai provato e non hai trovato nulla ascoltate attentamente quello che leggeremo adesso la mia bocca non va oltre il mio pensiero con altre parole io non pronuncerò mai delle parole che non penso o in bene o in male ascoltate cosa ci viene detto dei 144.000 in apocalisse capitolo 14 al versetto 4 i 144.000 parole in rosso vengono definiti come quelli che seguono l'agnello dovunque gli va ascoltate il versetto 5 sulla loro bocca sulla bocca dei 144.000 non è stata trovata menzogna perché sono irreprensibili davanti al trono di dio voglio chiedervi carissimi perché sulla bocca dei 144.000 non è stata trovata menzogna pensiamo al versetto che abbiamo appena letto nel salmo 17 al versetto 3 perché perché la bocca dei 144.000 non va oltre il loro pensiero per questo motivo sono stati trovati irreprensibili davanti a dio per questo motivo dio ha sigillato i loro casi i loro caratteri ponendo questo sigillo sulla fronte sulla mente sui loro pensieri perché perché i loro pensieri erano dei pensieri puri grazie all'aiuto divino e all'influsso dello spirito santo hanno controllato e sottomesso i loro pensieri carnali e ora il carattere meraviglioso di dio il frutto dello spirito santo che è amore gioia pace pazienza gentilezza bontà fedeltà mansuetudine autocontrollo è manifestato nelle loro vite e questo è ciò che dio desidera fare con tutti noi con me e te proprio ora ci stiamo avvicinando alla conclusione e ascoltate efesini 4 efesini capitolo 4 dal versetto 20 27 scusate efesini capitolo 4 dal versetto 27 ascoltate qual è la mentalità di questo popolo quella che dovrebbe essere la nostra mentalità già da oggi efesini capitolo 4 dal versetto 27 la parola di dio ci dice non date luogo al diavolo punto quale dovrebbe essere la nostra attitudine come cristiani quale dovrebbe essere quella di non dare luogo al diavolo o fratelli se comprendessimo questo versetto effesini 4 versetto 7 non date luogo al diavolo non date luogo al diavolo o amen versetto 28 chi rubava non rubi più ma piuttosto si affatichi facendo qualche opera buona con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno versetto 29 nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca dalla bocca dei 144.000 non escono parole malvagie perché la loro bocca non va oltre il loro pensiero ma se ne avete una buona per l'edificazione secondo il bisogno ditela affinché conferisca grazie a quelli che ascoltano versetto 30 e non contristate lo spirito santo di dio col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione questa dal versetto 27 al versetto 30 è l'esperienza dei 144.000 che saranno sigillati proprio in questi ultimi giorni nessuna parola malvagia nessuna menzogna esce dalla loro bocca perché la loro bocca non va oltre il loro pensiero loro non danno luogo al diavolo nella loro ma il loro unico interesse è dio e gesù cristo sono le sue promesse e tutto ciò che è veritiero onesto giusto puro amabile e ciò che è di buona fame loro si sono ritirati da satana loro si sono ritirati da ogni peccato riservando una perfetta ubbidienza a dio solo e in virtù di questo sono stati sigillati in seconda timoteo capitolo 2 al versetto 19 ci viene detto questo è un versetto davvero importantissimo seconda timoteo capitolo 2 versetto 19 tuttavia il saldo fondamento di dio rimane fermo avendo questo sigillo qual è il sigillo di dio che deve essere applicato su ognuno di noi avendo questo sigillo il signore conosce quelli che sono suoi e si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome di cristo si ritragga dal peccato si allontani dal peccato chiunque nomina il nome di cristo questo sarà il nostro sigillo questo sarà il sigillo del popolo di dio il 144 mila chi vuole ricevere il sigillo di dio non può continuare a vivere una vita di peccato questo è anche quello che ci insegna il sabato un segno un sigillo del fatto che dio ci santifica non possiamo continuare ad osservare il sabato e continuare la nostra vita di peccato non possiamo pretendere di ricevere il sigillo di dio e continuare a vivere una vita di peccato e questo non accadrà ripeto solo per mezzo delle nostre forze umane no ma per quella che è la stupenda grazia di gesù che in tito capitolo 2 al versetto 12 ci insegna a rinunciare all'empietà al peccato e alle mondane concupiscenze perché viviamo nella presente età nel mondo di oggi viviamo saggiamente giustamente e piamente questo a questo siamo chiamati e tutti quelli che riceveranno il sigillo di dio debbono essere senza macchia nel cospetto di dio candidati per il cielo il sigillo di dio non sarà mai impresso nella mente e nel carattere di uomini o donne giovani o anziani che sono impuri che continuano la loro vita di peccato e sono amanti del mondo lo standard che dio pone davanti a noi è quello che troviamo in matteo capitolo 5 al versetto 48 siate perfetti come perfetto il padre vostro che è nei cieli dio ha una sfera di perfezione alla quale noi umani ovviamente non potremmo mai raggiungere ma dio ci ha dato una sfera nella quale noi uomini possiamo essere perfetti a seconda della conoscenza a seconda della luce che dio ci ha dato dio ci invita a metterla in pratica ad essere perfetti in ogni stadio della nostra crescita della nostra vita cristiana so che sembra uno standard molto alto ma ciò che agli uomini sembra impossibile per dio non lo è per dio è possibile se gli permettiamo di operare in noi quando solitamente si pensa ai 144.000 soprattutto anche dopo quello che è lo studio che abbiamo fatto avuto fino a questo momento siamo tentati di credere che questi 144.000 siano dei supereroi siano degli uomini diversi da noi siano degli uomini che hanno una natura diversa da noi sembrano degli uomini che non possono capire quello che io e te proviamo in questo momento quando siamo tentati quando abbiamo peccato e conosciamo il gusto del peccato ma voglio che sappiate che loro i 144.000 sono uomini esattamente come noi sono uomini sottoposti alle nostre stesse tendenze sono uomini sottoposti alle nostre stesse inclinazioni ma hanno lottato hanno sottoposto ogni pensiero a cristo all'ubbidienza di cristo e si sono consacrati a dio senza riserve non un po dio e un po il peccato no solo dio solo dio è presente nei loro pensieri giorno e notte o carissimi apocalisse capitolo 7 il versetto 14 il versetto 15 siamo quasi arrivati alla conclusione ci dice egli allora mi disse parlando dei 144.000 costoro sono quelli che sono venuti dalla grande tribolazione e hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello per questo essi sono davanti al trono di dio e lo servono giorno e notte nel suo tempio e colui che si siede sul trono dimorerà tra di loro ora voglio che ci concentriamo sul versetto 14 dei 144.000 ci viene detto che hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue dell'agnello voglio chiedervi e voglio che ragioniamo insieme se si sta parlando dei 144.000 cosa significa che i 144.000 hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate che cosa significa? voglio chiedervi come erano le vesti dei 144.000 prima di essere lavate prima di essere imbiancate nel sangue dell'agnello come erano le vesti di questo popolo prima di essere lavato imbiancate sapete qual è la risposta? che le vesti il carattere di questi 144.000 questo popolo di dio proprio negli ultimi giorni prima del ritorno di cristo prima che le loro vesti fossero lavate imbiancate purificate erano vesti sporche erano vesti sudice era un carattere sudice di peccato ma poiché essi hanno rimesso completamente la loro vita nelle mani di cristo e si sono lasciati lavare si sono lasciati purificare completamente da ogni peccato e da ogni inclinazione carnale loro ora provano solo il desiderio di fare la perfetta e accettevole volontà di dio le loro vesti, il loro carattere ora è bianco e puro vi ricordate della vicenda nella quale satana si trova davanti a dio per accusare il sommo sacerdote giosuè nel libro di zaccaria? voglio che sappiate che questa esperienza è proprio quella che noi e i 144.000 come popolo di dio e dobbiamo sperimentare già da ora nella nostra vita voglio presentarvi quest'ultimo passaggio, questi ultimi versetti zaccaria capitolo 3 e leggeremo dal versetto 1 zaccaria capitolo 3 dal versetto 1 poi mi fece vedere il sommo sacerdote giosuè che stava a ritto davanti all'angelo dell'eterno e satana che stava alla sua destra per accusarlo l'eterno disse a satana ti sgridi l'eterno satana sì, l'eterno che ha scelto gerusalemme ti sgridi non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? com'era giosuè in quel momento? or giosuè era vestito di vesti sudice e stava a ritto davanti all'angelo vesti sudice un carattere sudicio di peccato versetto 4 il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti toglietegli di dosso quelle vesti sudice poi disse a lui guarda ho fatto scomparire da te la tua iniquità e ti farò indossare abiti magnifici io quindi dissi mettano sul capo un turbante puro così essi gli misero in capo un turbante puro e gli fecero indossare delle vesti mentre l'angelo dell'eterno era là presente i 144 mina hanno lavato e imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello e potranno servirlo giorno e notte nel suo tempio alla sua presenza infatti zaccaria continua la visione con un solenne ammonimento e dal versetto 6 dice e l'angelo dell'eterno ammonì solenemente Giosuè dicendo così dice l'eterno degli eserciti se da ora che le tue vesti sono state cambiate che ora le tue vesti sono state lavate e imbiancate se tu da ora camminerai nelle mie vie e osserverai la mia legge anche tu governerai la mia casa e custodirai i miei cortili e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui non è forse questa l'esperienza dei 144 mila che hanno lavato e imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello e che serviranno Dio giorno e notte nel suo tempio assolutamente sì questa è l'esperienza della giustificazione per fede Dio è in grado di perdonarci di lavarci completamente da ogni peccato e di darci la forza da questo momento in poi di vivere una vita santa questa è la giustificazione per fede i 144 mila hanno lavato e imbiancato le loro vesti nel sangue dell'agnello perché proprio nel sangue del sacrificio di Gesù perché proprio in questo sangue che di fatto macchia il sangue come hanno fatto a lavare e a purificare le loro vesti, i loro caratteri in prima Giovanni capitolo 1 al versetto 7 al versetto 9 ci viene detto il sangue di Gesù Cristo, suo figlio, ci purifica da ogni peccato se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità questa deve essere la nostra esperienza questa sarà l'esperienza dei 144 mila in questi ultimi giorni voglio concludere con quest'ultima slide per quanto riguarda i 144 mila che abbiamo visto in Apocalisse capitolo 7 essi abbiamo già visto, già notato questa è la mia conclusione provengono spiritualmente dalle 12 tribù del popolo di Israele spirituale non la nazione terrena e letterale di Israele ma quella spirituale i 12 nomi delle tribù menzionate come abbiamo già visto la scorsa volta non sono in ordine di nascita alcuni sono mancanti e altri sono aggiunti questo per farci capire che ciò che dobbiamo capire di questi 12 nomi ciò che dobbiamo capire di questi 12 uomini non è tanto la loro genealogia o la loro discendenza ma è l'esperienza di conversione che hanno avuto questi 12 uomini che sono presenti tra le 12 tribù dei 144 mila in questi ultimi giorni che li ha portati ad essere menzionati come un esempio per ognuno di noi e soprattutto dei 144 mila che saranno salvati nel tempo della grande tribolazione prima del ritorno di Gesù Cristo ogni uomo che potete vedere qui menzionato facendo parte delle 12 tribù spirituali di Israele voglio che sappiate ognuno di questi uomini se andiamo a vedere e lo andremo a vedere nelle prossime presentazioni ognuno di questi uomini aveva delle inclinazioni peccaminose aveva delle tendenze peccaminose dalle quali sono stati dominati peccando queste inclinazioni li hanno portati ad essere dei terribili e sudici peccatori ognuno di questi nomi è vero ci sono stati tanti pregi positivi ne parleremo ma ci sono stati anche molti difetti molti errori e molti peccati ma attraverso la grazia redentrice di Cristo hanno avuto un percorso di conversione di trasformazione caratteriale così come anche Giacobbe loro padre e il nonno di alcuni di loro da ingannatore è diventato Israele ovvero un vincente e quello che vorremmo fare nei prossimi sabati nei prossimi incontri nelle prossime presentazioni pomeridiane sarà proprio di analizzare ognuno di queste tribù ogni nome qui menzionato e di vedere quali sono state le loro debolezze le loro tendenze peccaminose perché voglio che sappiate noi ci riconosceremo in molti di loro ma soprattutto vorremmo andare a studiare ed analizzare assieme quella che sarà la loro esperienza di conversione e di vittoria sul peccato di vittoria sulle loro tendenze peccaminose che noi tutti quanti abbiamo che Dio ci aiuti che Dio ci benedica e ci aiuti in continuazione a comprendere questi importanti temi quello che abbiamo visto in questo pomeriggio è stato i 144.000 e il sigillo di Dio vorrei tanto invitarvi a pregare e a concludere in questi momenti Signore nostro Padre Celeste vogliamo ringraziarti per lo studio che abbiamo avuto fino a questo momento ti ringraziamo Padre per la tua parola che ci parla tutt'oggi che ci fa comprendere e che ci insegna che ci educa affinché ogni uomo possa essere completo in Cristo Gesù perfetto in Cristo Gesù Signore vogliamo chiedere le tue speciali benedizioni io e i miei fratelli e sorelle desideriamo essere sigillati in questi ultimi giorni e fare parte del tuo popolo dei questi 144.000 Signore così come abbiamo sentito cantare proprio all'inizio desideriamo che il nostro cuore sia cambiato e sia trasformato da te che la nostra mente sia per davvero trasformata vogliamo sottomettere ogni nostro pensiero e desideriamo che soltanto tu Cristo Gesù la tua parola possa essere il centro della nostra attenzione vogliamo vivere per te vogliamo essere dei veri cristiani ti prego Signore distogli la nostra attenzione da tutto ciò che ci contamina e che non ci permette di essere dei buoni cristiani desideriamo essere sigillati e desideriamo essere salvati benedicici benedici le nostre famiglie e incoraggio ognuno di noi nel nome di Cristo Gesù Amen Amen